15 giorni fa avevo fatto il mio primo trattamento e unico fino adesso col bacillus thuringiensis vi ricordo che è un batterio presente naturalmente nel terreno ovviamente in dosi concentrate che attacca solo la larva in questo caso della cavolaia vi mostro qualche immagine giusto per farvi vedere di cosa parliamo se non avete visto l'altro video sono larve voracissime vengono deposte centinaia di uova sotto le pagine delle foglie e nel giro di pochi giorni le foglie vengono completamente scarnificate quel trattamento lì che è completamente naturale ha messo in agricoltura e biologica agisce soltanto sulle larve allora vediamo insieme guardate come si sono riprese queste piante queste piante sono le stesse che vi ho fatto vedere nell'altro video quelle che avevano le foglie mezze mangiucchiate anche qui vedete qui ero stato colpito non c'è più niente quelli che vedete sono i resti di quelli passati di 15 giorni fa non abbiamo più niente volevo chiudere questo capitolo del bacillus thuringiensis facendovi vedere i risultati